ciao a tutti bentornati a fasmo fobia da me da dev e da len ciao ragazzi ciao ciao i belli di casa ho detto vabbè già ho detto in life for dead lasciamo verde amici birilli ecco allora prima di cominciare questo episodio con i cani zombie che sono da qualche parte che si sento nel sottofondo volevo ricordare a tutti quanti di andare poi a guardare i punti di vista di dev e len mi raccomando perché sono poi dopo io mi dimentico e non vuodico però ormai tanto sapete quindi no sì esatto ma se ormai si sa non lo diciamo non lo diciamo però si sa si sa andate a guardare i loro punti di vista perché due piccioni con una fava esatto perché così potete vedere quanto io sono però è quanto loro sono nabbi soprattutto in life for dead soprattutto allora noi stiamo su fasmo e quindi esatto noi abbiamo già scelto la casa che è edgefield road quindi io vado a prontizzare il tutto c'ho una cartellina che è rimasta sospesa però va bene e sedamo si parte e sedamo ancora non hanno messo gli oggetti nuovi giusto mi correggetemi no no quindi quando l'immobilismo proprio esatto allora allora ben hai preso tu la la sparafrescia la presenza con la macchietta fotografica dico la sparafrescia allora tu prendi le mf ho preso il termometro allora io prendo la sparafrescia facciamo forse un obiettivo se ci va bene donald si chiama donald l'amico fritz buonasera donald ditemi che non è l'ombra perché se è l'ombra mi sento male non la posso vedere l'ombra io quello dico acqua c'è un armadio aperto potrebbe essere vediamo allora serve la macchietta fotografica per fare la foto alla l'osso all'osso vediamo se c'è l'osso anche l'osso e faccio sì ho visto visto un segno d'affetto le restituisco il favore comunque qui c'è l'osso ha fatto male a chiudere a vabbè allora in genere ciccio buffo c'è la macchinetta ragazzi mollate quello che state facendo giù perché tanto è qui sopra ma ecco ma dice l'osso c'è l'osso e dobbiamo andare a prendere la macchinetta e macchinetta dov'è è qua da queste parti perché ha detto cose aspetta che vengo a mettere il sensore di movimento da queste parti tipo al bagno e credo allora se non è qua in questa in questa zona è magari in questo che è lo specchio magico questo o no sì sì è lo specchio magico sta qui però sì no no non è lo specchio qui dove sta giù dove lo specchio magico ah sta giù ah ok va bene ah sta giù lo specchio ok abbiamo fatto pure lo specchio arrivo la prendo io la macchinetta sì ma la manca la macchinetta non è che avete già preso e vi siete dimenticato ah no ce l'ho io la macchinetta pardon le mf volevo dire e io sono bassissima di sanità perché l'ho sentito mannaggia allora che si fa quindi fotografi tu l'osso sì 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 fotografo tutto io sono e io mi prendo già la pastiglietta allora dove stava l'osso dev giù giusto perché mi sono abbassato nel bagno nel bagno ok si ho visto ok poi lo specchio sta giù giusto eccolo qua ok ti vuoi mettere vicino prego prego ok io metterei anche il libro per adesso metto qua poi vediamo se troviamo la stanza giusta lo sposto stanza l'hanno cambiato è sempre quello no 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 è sempre quella un altro gabbicesso qui eh sono pieni di gabbicesso in questa in questa casa beati loro eh sarebbe comodo eh sì le case migliori hanno almeno quattro cinque bagni vabbè quattro cinque già due basta no io ce n'ho due no è beata lei no qui non c'è niente ma perché sto abbassata non lo so allora damosi regà damosi andiamo a vedere un attimo no no mi chiuda dentro andiamo a vedere un attimo se vediamo qualcosa qua c'è una cosa io mi sembra che vedo cosa c'è una cosa vedo temperatura eh no io non la vedo sì qua sì eh ve o no dove non lo so dove ma non so neanche dove è dev e infatti sarà sul furgone ma sopra dove ah eccolo damosi damosi andiamo a vedere se vediamo qualcosa beh chiudi è scritto no 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 damosi in realtà potevamo accendere il il generatore ah già vero ma non è giù in cantina in questa casa no sta giù ma non in cantina fortunatamente l'MF è niente allora adesso allora vediamo ci dobbiamo impazziccare prima di tutto ok io mi sono impazzicchiata è passato nel adesso vado a accendere il generatore che cosa possiamo portare io porto la il sale eh vabbè la spirit box ma non so ancora dov'è vabbè porto la spirit box così se mi deve uccidere mi uccide basta allora io vado ad accendere il contatore allora facciamo così io mi porto questa e questa e vediamo se riesco sei qui olè sei qui dove sei quanti anni hai un fiorino sei qui sei qui dove sei ma sti fantasmi non fanno nulla dacci un segno maledetti dacci un segno write on the book non vedo neanche le sfere dove sei mi compenso lo nevica comincio a credere che si sia spostato qua non si sente più niente non fa più nessun movimento io provo a chiudere tutte le porte ma ve ne siete andati ma io boh e volevo vedere se per caso è giù qui la temperatura scende sei qui sei qui sei qui c'è temperatura qui dove 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 la sala lavatrice ma va ammazza è che abbiamo sbagliato così tanto sì e infatti porca miseria abbiamo sbagliato sì abbiamo sbagliato tutto c'è temperatura mi ha spento anche la la candela la candela allora io provo a chiedere qua se il signorino è qui sei qui? sei qui? dove sei? quanti anni hai? quanti anni hai? sei qui? sei qui? sei qui? ma mi sa che a questo punto la speedbox ha spento allora io ho messo la telecamera lì andiamo a vedere se si vedono almeno le sfere ok aspettate devo mettere una cosa anch'io il sale però non si vede nulla aspetta aspetta vengo io ma non hai la no l'ho posata l'hai posata sì perché anche con la candela non si vede niente mettila qua dentro pure dove dove? qua qua dentro allora è passato sul sale qua? ah di già? sì quindi non è il red quindi c'è da c'è da portare giù telecamera e dots ah no una delle camera l'ho messa qua guarda l'hai già messa ok allora il dots poi lo lo mettiamo ok andiamo a vedere ma avremo bisogno sicuramente di come si dice? come si dice? come si dice? ho messo in là eh io sto sto messa male pure io allora questa è la telecamera che ho messo io provvisoria giusto per vedere a meno ma non so come ho fatto da qui a spegnere accendere ma io ma lei veramente lei boicotta boicotta ma non volevo volevo aprire il menu ok allora abbiamo detto temperatura giusto? aha ah e basta ritorniamo dentro perché non abbiamo ah sì abbiamo la temperatura eh Lara però è bassa è come me eh dovrei vendermi una candela il sensore di movimento va rimesso a posto perché gli obiettini quali sono sensore sono già fantasma ce l'hai già? e allora il dots va preso quello che c'è su l'ho preguardo ah l'hai già preso ma allora rientriamo quanto ce l'ho bassa allora intanto avete messo la temperatura? eh sì allora dobbiamo andare a prendere libro spiritico aspetta non lo posso prendere io qua no mannaggia eh solo che se prendo vabbè lascio la torcia dai prendo un libro spiritico senza che la nea riprendi su vengo a prendere io che sto con due posti liberi o fate voi eh l'ho preso io l'ho preso io ma lo vado a mettere qua non c'ho la torcia perché c'ho la candela allora ma scusatemi ma dov'è il ah ok c'ho un'impronta no ma non c'ho manca la macchinetta per fare la foto qua è una posata è il traforgone io sento rumori strani è perché perché ha camminato ha camminato su tutte le due impronte io sono giù a cercare di accendere il contattore ma non lo trovo aspetta aspetta vengo io ma dove stai a accenderlo scusa è dentro la stanzetta ma sei da tutta un'altra parte sta nel garage ah eh non mi ricordavo più mannaggia l'hai fatto tu boh ma almeno adesso ci vediamo venga venga su madonna madonna io ho poca che scusso allora ha aperto una porta e ha chiuso un portone ah beh quindi l'abbiamo messo qua ok io ho sicuro che sto per morire perché sono bassissima di sanità a parte che anche Lara non stava messa benissimo eh no infatti mi sono appesa la candela tanto dobbiamo raggiungere il 25% eh vabbè però non lo può raggiungere solo con noi il 25% si deve impegnare anche lei vabbè vogliamo andare a vedere se si vede che passa nel dots vediamo ma telecamera no no e lo sapevo come lo sapevo come lo sapevo adesso scappo su anch'io ma presa a me porca muzza affasciatissima mi sono pure nascosta ma se nascosta dove stavo io mi scusi ma come dove stavi te io me ne va no che cacchio ah ma voi vi siete nascosti insieme ma dove no io stavo nascosto eh io stavo nascosto su e lei stava andando dove stavo io e io pure stavo su io mi sono messa dico tu sei morta dove stavo io non la stessa ah si ma io non ve vedo eh mo non ci stiamo più ah maledetti già vi siete dati e mo eh mo siete senza il pezzo da 90 come fate rientrare è impensabile c'è da indovinare è come indovini eh no infatti boh c'è solo un o passa nel dots o niente questo qua è veramente non scrive non passa niente fa nulla io sparerei con revenant è passato si nel nel sensore di movimento è passato ma il revenant dici ma eh non so è abbastanza aggressivo però è anche vero ma io faccio il mimo io faccio il mimo ognuno metta uno dai tanto con una prova che fanno io non metto il moroi mhm ok vado aspetta ah vabbè volevo salire no vabbè no no e ci sto sul furgone ah ci stai non senti che ti tiro i piedi il moroi bravo ma bravo che culo ma bravo ma bravo quanti punti allora mo io che cosa devo ricomprare allora viene fuori un equipaggiamento specifico per là vabbè che devo ricomprare ragazzi allora aspetti un attimo che prima metto le mie cose così vediamo cosa manca ma facciamo a fare il secondo sì 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 no allora manca nulla c'è tutto c'è tutto posso prendere un altro sensore di movimento no no se vuole così ne abbiamo due però ah no ecco mancano le candele sì adesso adesso aggiungi ah fa lei aggiungi e le candele le candele allora io non mi permetto no no sia buono ok ci sono? c'è tutto quanto ce ne sono? 4 4 ok a posto? no aspetta un attimo perché ah perché non l'ho comprato aspetta dì dì compro io no no lo voglio comprare io ecco perché non muore mai esatto a posto dove vogliamo andare? in un camping? ci dite voi camping? sì o no? e quale tra i due? eccolo più piccolo più piccolino va bene? è questo sì sì è questo qua ok va bene va bene vado? sì no lei si deve prontizzare che vada eh io mi sono prontizzata ma ok la partita l'ho fatta io? no l'ho fatta io ah ah vabbè ma già giusto vabbè dettagli allora sanità mentale 25 crucifisso e fai assistere al membro il membro lo abbiamo quindi a posto a posto allora mi porto una macchinetta mi porto ok me porto mi sa che non faremo mai come se apre? devi spingere come quando dice aprire però tu spingi esatto push or pull qualcuno ha per caso lmf ce l'ho io ok se vedete l'osso ditemelo che io yes vediamo di solito nel nel cessetto no no oppure qua qua sopra no qui nemmeno e allora sarai in una tenda allora qui c'è la tenda grigia e la tenda blu aperte adesso è chiusa oh sono io sono io ma dove state? io sto davanti alla tenda grigia no perché stavo io qui non c'è niente vedete qualche impronta? impronta? no qualcuno ha riaperto? io io sto prendendo mania qualcuno ha riaperto? ma dev ma perché ma io ma io ma io ma guarda dai ma cosa vi riaprite queste tende maledette che siamo passati adesso io allora qua ce ne sono tre e siamo a posto io l'osso non lo vedo da nessuna parte ho fatto il giro dappertutto allora io adesso vado a prendere l'accendino e accendo il fuoco ok intanto lascio la telecamera ma l'osso l'hai trovato? no il ponte non ne vedo allora mi ha messo la telecamera ma che cosa è successo là in fondo? ma ci sono le lucciole ma dove? oh happy day facciamo un sketch note ok che carino ok ma qui c'è una birrozza oh beviamo ce la va oh ce la tavola luigia regà fatemela dove? ma qua ma va non l'avevamo mai trovata qui la vogliamo usare venga venga io direi di andare a controllare la sanità mentale prima no? forse meglio ah sta qua ragazzi si muove il coniglio su fantasma non faccio il coniglio ho sentito le mf si pure io buttatelo a terra se non si accende ah quindi hai sentito? eh sta qua sta qua non ho più nulla vado sul portone allora aspetta che la metto qui allora prendo la telecamera che l'ho lasciato qua allora ho già così bassi 50% davvero? che palle va bene ma per parlare con la Ouija ci vuole la spirit box non mi ricordo no 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 avevamo qualche cosa da fare allora impastichiamoci che non ce la facciamo impastichiamoci poi prendiamo libro l'ho preso è questo prendo e io prendo pure un'altra telecamera magari aprezzano da qualche po' però tu l'avete visto il libro l'hai già preso Sì apremo la spirit box ha spento il fuoco ma non si fa ecco ecco la bastarda che sto a fare il servizio fotografico ma che è l'ombra? sta bloccata io non mi avvicinerei è l'ombra? hai fatto lo screenshot io ho fatto lo allora era qua adesso provo a contattarla sei qui? eh ma adesso abbiamo la la sanità ambientale bassa io te lo dico sei qui? sì no adesso arrivo quanti anni hai? dove sei? sì ce lo basta di nuovo che palle 65 ma come? ne ho fatte 100.000 sei nerd? è solo mi ha dato solo una a due di stelle devo riprovare con la spirit box ah beh vedi abbiamo assistito all'evento paranormale oh no le altre me le ha date brutte me le ha date che peccato ma le ho fatte pure io ci ha dato solo una sì ma le foto comunque funzionano alla cavolo eh perché io le ho fatte tante eh io ho consumato tutte e cinque di una dove non vedo proprio neanche il fantasma ma ha dato due stelle le altre due non me le ha classificate proprio io sarei la tavola guiccia eh che siamo bassi di sanità ma cosa vuoi che succeda? allora vediamo un po' lascio la macchinetta prendo stava qua dove dove? dove sei? sei qui? qua dove dove? ah qua sei qui? quanti anni hai? ma vuole usare la spiritbox allora a te no vabbè era per fare un'altra prova perché quella di prima non mi è piaciuta ma ha tirato delle scarpe fai vai che che bisogna salutarla sì ci devi dire ciao e poi com'è che si chiama poi questo? eh non mi ricordo Donald non era quello di prima ah ecco che Donald era quello di prima è passata sul dots ragazzi è passata sul dots sì? sì sì bene dots ok ha scritto sul libro prima che salva no vado vada vada ma io non so dov'è ah è qua come si fa così così hi dove sei? anzi dove sei? chi? ahia ahia porca ma dai ma sei già scappata la vedo la vedo eh pure noi Len ti ho preso? no via però gli ho fatto tanti di quegli screenshot prima di morire ma ho sbagliato qualcosa voi dite? eh ma è normale perché ma secondo me non gli dovi di hai mamma mia come sono morta male ma avevo la sanità bassissima non era possibile cioè tu c'hai due per cento in sanità dev ma io vedo uno anzi zero eh ragazzi ho messo il crucifisso cazzo allora il crucifisso non l'abbiamo messo no l'ho messo ah l'ho messo quindi cosa potrebbe essere? allora è passata nel dots ma avevamo solo il dots noi? c'è una prova sola stasera i fantasmi mazza che barba vabbè per me era questo mi pasticherei e ritornerei che dite? che fai? mi pasticco e ritorno eh ma c'è una pasticca sola prendi la pasticca io c'ho il moccolotto e però devi prendere il crucifisso perché ho messo a 33% il moccolotto non so se ti serve è il fatto che sta pure scendendo invece di salire ma deve tu stai a 29 eh 32 ma che fantasma eccola eccola non venite perché sta arrivando ha chiuso ha chiuso ha chiuso di nuovo ma noi non stiamo dentro è buggatissimo il suo gioco non stiamo dentro che chiudi che non c'è nessuno chi ha chiappi forse ce la va con me no l'ho aperto io volevo fare la foto al cadavere di Len non so se ti conviene rischiare qual era quel fantasma che te prosciuga? l'oni credo beh proviamo a mettere l'oni così a The Gatsum non so poi rientrare perché abbiamo la sanità mentale a 30 allora aspetta cioè ha chiuso la porta e mi accostiamo dentro due obiettivi l'abbiamo fatto vabbè vediamo mettiamo l'oni io proverei i colloni dai dai chiudo hai fatto Dev? chiuda chiuda si si ma sta maledetta guarda due la prima volta che scendiamo con la sanità media il Deogen ma va fa l'ho detto il tre quarti dalla palazzina 2 ma il Deogen non lo becchiamo mai su che base era il Deogen ma solo ai tempi belli lo beccavamo infatti però mi ha ammazzato più di una volta il Deogen ce l'ha con me e vabbè allora niente dove stava losso le cacce sono andate male vabbè ci accontenteremo ci accontentiamo però abbiamo fatto due belle morti via sì beh beh devo dire che noi facciamo sempre morti spettacolari grafic si 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 deve rimasto la tenda gialla la tenda gialla ah è vero non abbiamo trovato l'osso no io sono entrata nella tenda gialla ma non c'era niente forse era quello piccolino capito che non si vede va bene allora detto questo lo sicino per oggi è tutto con questo episodio di fasmofobia vi ricordo di andare a guardare i punti di vista di Len e Dev come sempre dove io sono stato il man of the match of the match man of the match perché non sono morto ho indovinato bravo giusto giusto bravo un applauso a Dev un medaglia anche a Dev quel che è di Dev sì diamo a Dev quel che è di Dev e niente tanto poi la prossima volta che giochiamo Dev spende i soldi giusto Dev esatto devi comprare tutto quello che ho perso esatto esatto che Len è sempre quella che compra più di tutti va bene e c'ho i soldi spendo ma io quanti soldi ho a proposito aspettate un attimo fatemi vedere no io ho 2380 ce l'ho speso tutto ci chiediamo tutti sì c'ho 2380 ammazza mi ha fidato io boh guarda guarda che faccia angelica che c'ho lo vedi pure nel patentino ma io boh va bene allora un saluto a tutti da me da Len e da Dev e ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti